Israele ha avviato la somministrazione della quarta dose del vaccino anti-Covid per tutti i cittadini dai 18 anni in su, a 5 mesi dalla terza. Ma questa volta, a differenza di quanto avvenuto per il booster, scienziati e virologi italiani esprimono parere negativo. L'ulteriore stimolazione del sistema immunitario non ha dimostrato avere effetti efficaci e soprattutto, concordano gli immunologi, si rischia addirittura l'effetto opposto, l'indebolimento degli anticorpi. La quarta iniezione dunque per gli italiani si allontana e il governo studia l'ipotesi di allungare la durata del Green Pass perché ha completato l'iter vaccinale. Stiamo conoscendola questa malattia. In Israele stanno facendo la quarta dose, ma ricordiamoci che Israele è un paese particolare perché è un po' come il Lazio, come tipo di abitanti, come numero di abitanti, quindi parliamo di numeri non elevatissimi. Non lo so se faremo la quarta dose. Certo, il problema si pone, però ricordiamoci che la quarta dose scatterebbe da primavera, quindi probabilmente gli effetti positivi della terza dose e le mutazioni climatiche dovrebbero, da questo punto di vista, renderci un pochino più tranquilli. Ci auguriamo che con l'omicron abbiamo per il momento finito, ma un'ipotesi, speriamo lontanissima, di una eventuale mutazione che potrebbe riazzerare tutto, quella dobbiamo prenderla in considerazione. Intanto però i medici di base lanciano l'allarme, la registrazione della positività dei pazienti nel Lazio a rischio. I malfunzionamenti del sistema informatico della regione stanno ritardando la comunicazione che serve alla sospensione del Green Pass dopo il contagio, ma anche l'avvenuta negativizzazione dopo la guarigione. Abbiamo messo in atto, in accordo con la regione, delle modalità di trasmissione telematica delle certificazioni di inizio e fine isolamento. Il problema è che troppo spesso, troppo spesso, abbiamo dei blocchi. Voi capite che non comunicare la fine isolamento in tempi rapidi, quindi il certificato di guarigione, può comportare per quella persona un ritardo del sblocco del Green Pass. Troppo spesso ci stanno degli intoppi e dei blocchi che non capiamo, noi facciamo i medici, non siamo informatici, chiediamo agli informatici di darci una mano a semplificare la vita.